brutta tegola giudiziaria per Silvio Berlusconi nel pieno della campagna elettorale, che finora lo vedeva con il vento in poppa. La procura di Milano, come ha rivelato stamattina la stampa, ha aperto nelle scorse settimane un'inchiesta sulla presunta vendita gonfiata e sull'ipotesi di riciclaggio nella cessione del Milan al cinese Yongong Li. Berlusconi vendette il Milan nell'aprile dell'anno scorso per 740 milioni in due tranche. Una cifra fuori mercato pagata attraverso canali internazionali che, secondo le ipotesi investigative dei magistrati milanesi guidata dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale, sarebbero servite secondo quanto scrive il giornale torinese per schermare il rientro in Italia. Di una sostanziosa cifra, Silvio Berlusconi alla Convention Idea Italia la voce del Paese e la notizia dell'inchiesta giudiziari arriva come una bomba sulla campagna elettorale e può influenzarne il corso. Ma in realtà di dubbi e ombre sulla vendita del Milan ce ne sono sempre stati e ora tocca alla procura di Milano accertare come sono andate realmente le cose dopo i sospetti alimentati dai flussi finanziari provenienti da Hong Kong e dalla reale consistenza del compratore cinese che G. New York Times aveva fatto a pezzi nei mesi scorsi considerandolo sconosciuto sia in Italia che in Cina e ridicolizzando le sue presunte attività minerarie. L'umossa dei magistrati milanesi peser sul futuro gilincerto del Milan. Che fatica non poco a trovare nuovi prestiti per restituire al fondo americano Elliot i 300 milioni anticipati a Hong Kong li. Senza i quali il passaggio di proprietà non sarebbe mai potuto avvenire. Ma peser soprattutto sulla campagna elettorale e sulla credibilite politica di Berlusconi. Non nuovo a guai con la giudizia. Fin da ora si può immaginare che Berlusconi e il centrodestra parleranno di giustizia ad orologeria. Ma non risulta che abbiano avanzato gli stessi dubbi per inchieste giudiziarie recenti che hanno riguardato altre forze pultiche. Altro su MSN. Milan. Futuro societario. Mediaset. Sponsorizzato. Maggiore maggiore 2 mesino maggio. Approfitta della promozione e installa la versione di Office P adatta a te. Download immediato maggiore maggiore.